aperitivo circolare oggi 12 febbraio troviamo presso mercato coperto ortofrutticolo di porto san giorgio per questa manifestazione alla sua seconda edizione aperitivo circolare perché bisogna procedere in senso circolare orario oppure in senso anti orario attorno a quest'area che normalmente nei giorni lavorativi è destinata alla vendita commercializzazione prodotti ortofrutticoli a chilometri zero però qua quest'area ci sono negozi macellerie pescherie oggi chiusi ovviamente perché domenica negozi di prodotti tipici non solo a chilometri zero perché qui ho trovato ad esempio ma da negra culatello di zipello altro che chilometri zero dei veri gioielli in ogni modo adesso ci dedichiamo a questo aperitivo circolare informato sui generis manifestazione appena iniziata finirà alle ore 21 abbiamo qui i vini di cantina lumavite di rapagnano bruigia di fermo musica dal vivo aperitivo circolare in forma circolare quindi noi adesso circoliamo il positivo Grazie a tutti.